Il 18 maggio a Villa Bossi, palazzo comunale di Orta San Giulio, Novara, è stato presentato il libro Radici piemontesi dell'industria alberghiera di Barcellona, di Angel, Miguel Sanz e Arnalotte. Sono intervenuti con l'autore il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, e il sindaco di Orta San Giulio, Cesare Natale. La pubblicazione rappresenta un lavoro di accurata ricerca che propone ai lettori una coinvolgente fotografia storico-culturale, rendendo omaggio al patrimonio umano e professionale che molti cittadini piemontesi hanno condiviso al di là dei confini del nostro paese.